Signore nostro Dio, vieni per i graci, fa splendere con l'offo che noi siamo stati. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con il tuo spirito, dal lungo e secondo a te, gloria a te. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 e alleluia. Signore, il mio corpo è in Cristo e al meinem Zeitlam, paralizzato sopra lelicheげte me. Gli Kelsey, a froglio ampariettava le gloria. Il centurione rispesse- Signore, il vieni mantenha del Vieno. Ma di soltanto la parola a mattina di Lasc화 di aosiac figlia. Pur essendo anche io il suo padre hanno un po' dei soldati sotto me e qua uno va e veniva e avranno i piedi e i piedi e il mio fermo fa questo e i piedi e i piedi. Ascoltando la mia società ragagnoli disse a quelle che lo seguivano, in verità io le dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io le dico che molti parlano quando viene della luce e siete la mia ammessa con la mamma, con il sacco di Giacobbe e la mia ammessa. Parola ad essi. Glorie a te Cristo.